La facoltà di Psicologia Il progetto è molto importante per questa regione perché i bambini, i bambini e la salute mentale non hanno preso molto attenzione, non dal governo, non dal servizio di salute o anche dalla agenzia non-governamentale. Stavo aspettando per una soluzione di tre anni per più di 12 anni. Qui fin dai 3-4 anni la soluzione era usare farmaci. Si possono usare i giochi anche per osservare clinicamente i bambini. Quindi all'interno del Mental Center noi abbiamo trasformato l'uso delle stanze e abbiamo anche fornito tre stanze di vari strumenti di lavoro, sia cognitivo, sia emozionale, sia motorio. Siccome il Mental Center possedeva un bellissimo giardino fuori che era selvaggio, abbiamo pensato di trasformare questo giardino in un parco giochi mirato al supporto e allo sviluppo delle capacità rispetto alle quali questi bambini soffrono un po'. In un po' di mesi potete sentire, potete mesurare come l'impacto del progetto sull'adolescenza e l'adolescenza mentali. L'outreach team che è fatto da un maschio e una femmina con due differenti professioni. Vanno, fanno l'assessment, quando è il caso inviano i pazienti qui. Subito dopo che è iniziata la guerra della Turchia abbiamo sospeso il training per poterci dedicare allo strutturare un servizio di salute mentale nel principale campo dei rifugiati che arrivano dal Rojava. C'è un'estabilità nuova in Siria e la capacità del governo qui non è sufficiente per rispondere a tutte queste necessità e a tutte queste crisi. La richiesta di assesment, di diagnosi, di supporto si è impennata in un modo anche inaspettato. La necessità è di continuare ancora, di avere i professori e i professori dell'Italia che restano qui per l'anno, fino a che il centro abbia stabilito tutte le necessità. Una delle cose principali che siamo riusciti a fare è stato adattare dei test e tutte le checklist alla cultura locale. Io credo che questa relazione fra trattamento, cura, terapia e gioco sia fondamentale per aiutare le famiglie a delistificare tutta questa ideologia di condanna sul problema che riguarda la salute mentale. Grazie. Grazie. Grazie.